Il decreto è il corruzzo per la miglioranza e il portante è il posto per la miglioranza. Allora, una parola al Consigliere Passo Lucino. Allora, io... Allora, io volevo ringraziare tutte le persone che hanno votato, che hanno votato, che hanno votato la loro rappresentante al Consigliere del Consiglio. E vorrei togliertare in braccio le richieste, richiedo la mia caricatura a potere per la presenza del Consiglio. Grazie. Ok, andiamo a parte del Consigliere Passo Lucino. Quindi, il Consigliere Passo Lucino, non so di scioglio, se vuoi, mi ha raggiunto se c'è una comunicazione che si va dalla presenza. Sì, le vorremmo chiedere, di passare alla produzione del Presidente, che subito trovo la riposizione di questa comunicazione. Allora, poi se questa comunicazione è stata una parola, però se vuoi dire una parola, 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 se vuoi dire una parola. Allora, se vuoi dire una parola, se vuoi dire una parola, se vuoi dire una parola. Signore avete dovuto fare la vita di tutti tutti. Sì, 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 no, c'è più di del Consiglio del Consiglio. No, ma le siete che? Da dove il Presidente del Consiglio? Allora... C'è no... C'è no... E ci si è sempre lato da che il Presidente è contatto. Ma non è che il Consiglio del Consiglio del Consiglio del Consiglio. Allora, mio Presidente per l'elezione del Consiglio del Senato, mi stanno... Ma non lo ha a prego, ma non è che tu si sa rilasce la prego. Quindi devi stare la prego. Non so, non so, non so. C'è tanto che ci sono tre che ci siedono qui, ci sono tanti. Allora, riparito, portiamo i consiglieri con te e con luce e con l'altra domanda. Consiglieri del servizio, la domanda è una domanda che dice che io intendo proseguire con le lezioni che siete troppo debiti. Consiglieri del servizio, potete chiedere la parola per la diseguazione di Stato, lo potete, lo potete. il presidente del Consiglio che sarà eletto a un momento in cui sarà il Presidente del Consiglio se non ho visto il Presidente del Consiglio è la parola Grazie a tutti 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 Grazie a tutti